Medicina nucleare, il vicepresidente del Consiglio regionale Marco Casucci torna sul tema per annunciare notizie positive dopo l'interrogazione presentata dal suo gruppo in Consiglio regionale. Sappiamo come nel dicembre del 2020 sia finalmente arrivata la nuova PET al San Donato di Arezzo, ma il personale medico invece di aumentare di fatto è diminuito. Ci operano soltanto due medici in questo momento al reparto di medicina nucleare e noi abbiamo presentato una interrogazione al fine di stimolare l'amministrazione regionale e l'azienda per rimpinguare il personale medico mancante. Abbiamo avuto risposta e a breve sarà inserita una nuova figura professionale, quindi una notizia importante per il San Donato e per la città di Arezzo.